Ricordo che i dati della commissione di inchiesta parlamentare per quanto riguarda gli immigrati, oltretutto a guida Partito Democratico, perché fa parte della maggioranza, certificano che stanno arrivando nel nostro paese, e sono gli ultimi dati aggiornati, persone che non stanno scappando da guerre. Qua ho i dati, se volete faccio una breve lettura, i primi nazionalità che arrivano sono nigeriani, poi Gambia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio, Guinea, Marocco, Somalia, Eritrea, Etiopia, queste sono le prime dieci tramite degli sbarchi, non vedo un siriano. Per quanto riguarda chi arriva via terra, perché poi noi abbiamo anche tutto l'attraversamento del confine orientale, con il tutto terra dalla quale provengo, dal Frierenza Giulia, dove continuano ad entrare indisturbati i migrati clandestini, e parlo di clandestini perché anche qui le nazionalità sono Pakistan, Afghanistan, Marocco, Bangladesh, Nigeria, Iraq, Algeria, Iraq, che è la prima persone che vengono da un territorio oggettivamente difficile, e sono 32 dall'inizio dell'anno, non migliaia, Algeria, Tunisia, Egitto, Senegal, Gambia, Mali, Nepal, Guinea, Albania, Iran, 7 siriani, 7 siriani, non 1000 siriani, dopodiché abbiamo anche dei cubani, 4 cubani, per sicurezza i famosi cubani che scappano dalla guerra. Allora, diciamo come stanno le cose, gli altri paesi europei non si fidano di un paese come l'Italia, di un governo come l'Italia, che evidentemente, un po' dal mio punto di vista, per mancanza totale di politica sull'immigrazione, di politica estera, di capacità di reagire rispetto a un'invasione programmata, un po' evidentemente qualcuno per interessi interni, ricordo che lo scorso anno sono stati spesi 3,3 miliardi di Euro, l'ha scritto il governo dell'Europa, quest'anno legge di stabilità 4 miliardi di Euro verranno spesi e tutto questo dove andranno a finire le varie cooperative e associazioni, magari amiche o di aria governativa.